La Regione Abruzzo ha messo in campo anche quest'anno un grande apparato di uomini e mezzi in piena sinergia tra tutte le istituzioni per garantire la sicurezza, l'incolumità e la tutela del patrimonio ambientale. La campagna antincendio boschivo 2021 si protrarrà fino al 12 settembre, periodo di massima pericolosità per il rischio incendi. Lo scorso anno sono andati in fumo 1.300 ettari sul territorio abruzzese, 900 dei quali solo all'Aquila. Il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile Mauro Casinghini ha illustrato la campagna in cifre che vede impegnate squadre aggiuntive dei Vigi del Fuoco con lo straordinario apporto dei volontari, 76 mezzi regionali con moduli antincendio, 60 veicoli delle organizzazioni di volontariato, alcuni mezzi speciali, un elicottero regionale dedicato, 1.200 operatori formati e dotati di DPI, dispositivi di protezione individuale. Importante l'azione sinergica tra tutte le amministrazioni coinvolte nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, promossa l'intensificazione dei controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra sale operative e struttura regionale dedicata.